Diminuiscono i decessi per inquinamento atmosferico nell'Unione Europea, i dati restano però allarmanti. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia dell'Ambiente, nel 2019 le polveri sottili hanno causato 307.000 morti premature. Il tasso di mortalità è diminuito del 10% in un anno, ma serve fare di più. Bisogna rispettare i nuovi obiettivi di qualità dell'aria fissati dall'OMS.